La partnership nasce 20 anni fa, negli anni 90, quando lo Guardia di Finanza, insieme ad altre istituzioni militari, hanno scelto i veicoli che noi producevamo come il Defender, proprio come modello per supportare le loro forze sul territorio. In questo momento per noi è importantissimo perché è un'ulteriore conferma del fatto che la nuova Defender nasce con la caratteristica di poter fare qualunque cosa e raggiungere qualunque posto. Infatti è stata scelta proprio dai reparti della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino, oltre che dai Baschi Verdi, come mezzo capace di portarli ovunque e proprio in virtù delle cose che fanno. La cosa in particolare da menzionare e da stressare è il fatto che noi non abbiamo dovuto modificare tecnicamente queste macchine perché nascono con questa capacità già per il cliente medio, insomma il cliente che non le sceglie con queste esigenze. Vengono solo allestite e arricchite di accessori scelti dalla Guardia di Finanza caratteristici del lavoro che devono fare loro come il berricello, il portasci e altre cose ancora. Per il prossimo futuro credo che quello che possiamo aspettarci è un'ulteriore evoluzione in termini soprattutto dei modern luxury, quindi questo lusso minimalista, lusso sostenibile dove stiamo portando con la recente presentazione dei nuovi modelli. è abbastanza chiaro, la nuova Range Rover è la massima espressione di questo linguaggio, di questo nuovo linguaggio di design e il nuovo Range Rover Sport che presenteremo proprio oggi in anteprima mondiale è l'ulteriore evoluzione di un prodotto che si nasce per essere capace di fare qualunque cosa ma in realtà vuole offrire all'interno del proprio prodotto il massimo comfort e la massima piacevolezza di guida. oltre che oggi anche un'attenzione particolare alla sostenibilità. I tempi di consegna molto lunghi a causa della crisi dei microchip come viene chiamata ha colpito anche noi come tutte le case automobilistiche ci stiamo lavorando ovviamente e abbiamo degli accorgimenti che porteranno quindi a ridurre notevolmente questi tempi di consegna entro alla fine di quest'anno e ovviamente oggi hanno portato un disservizio ai nostri clienti che hanno aspettato a lungo tra cui anche le forze armate come quelle che la Guardia di Finanza hanno dovuto aspettare. Certo è che noi abbiamo cercato di privilegiare un po' questi 50 mezzi per il lavoro così importante che avevano e che dovevamo svolgere.